All'interno delle 100 serate Nicola ha presentato dei piatti veramente squisiti, quali sono stati Nicola? Allora i piatti sono stati, partendo all'antipasto abbiamo fatto una corratella d'agnello servita a una cocottina con una cialda di pecorino e della torta al testo. Poi passiamo al primo piatto che è una zuppa di legumi classica chiamata imbrecciata, composta da tutte le tipologie di legumi del nostro territorio. Poi si passa al secondo piatto che è la faraona in salmì, noi l'abbiamo rivisitata, abbiamo chiamata la faraona all'annarnese che verrà servita con un carciofo ripieno. Il dolce fuori gara ma lo vogliamo menzionare? Certo, il dolce fuori gara abbiamo rivisitato la rocciata di Assisi. Il piatto tipico per cui è conosciuta la badia? Il piatto tipico per cui è conosciuta la badia sono il maialino arrosto che viene fatto al fuoco, nel nostro fuoco su un giro arrosto, poi ci sono delle crepe, ci sono degli umbrichelli chiamati all'aione, che sono una rivisitazione dell'umbrichello all'arrabbiata, soltanto con abbondante aglio e prezzemolo. Ci sono i piatti del territorio orvietano, poi abbiamo la gallina ubriaca, che è anche quello proprio il classico piatto della cucina orvietana, che è una gallina cotta in casseruola, stufata per lungo tempo con del vino. Presidente del gruppo Krams, un gruppo grande formato da tanti soci con delle proposte davvero interessanti per tutti gli ospiti e i soci. Sì, diciamo che operiamo prevalentemente in Umbria, qui ad Orvieto abbiamo tre strutture pubblici servizi, chiamoli così, che si rivolgono a target diversi, qui la badia è la struttura di maggiore qualità, poi abbiamo nel centro storico di Orvieto il ristorante al San Francesco, una grande struttura vicino al Duomo, con oltre 500 posti a sedere, che si rivolge prevalentemente al turismo e non solo al turismo. Poi sul lago di Corbara, tra Orvieto e Todi, abbiamo una struttura che è anche albergo, la penisola, anch'esso si rivolge a banchettistica, diciamo un target medio, medio alto, al turismo, e anche a clienti del territorio. Poi operiamo a Perugia, nella ristorazione collettiva interaziendale, con la gestione del Centro Fiera di Bastia Umbra, la ristorazione Centro Fiera, gestiamo alcune menze aziendali, come la San Gemini, come l'Istone Giordano, Marcaidelli, poi gestiamo anche all'interno dell'università un grande locale per i giovani, che si chiama 110 Caffè Web & Food, che è un luogo d'incontro per i giovani, non solo per i giovani, come caffetteria, anche come luogo di appuntamenti, di eventi, sia per la musica, per la convennistica, per il cinema, diciamo per le attività culturali più in generale. Oltre a questo facciamo anche attività di ristorazione a domicilio, e per questo ci muoviamo in giro nel Centro Italia, come su Roma, Firenze o quant'altro, dove vogliamo portare i sapori dell'Umbria, non solo dell'Umbria. Poi abbiamo un'altra società che si occupa di allestimenti, quindi noleggi e quant'altro, per esempio un viaggese estate, dove facciamo sia gli allestimenti che la gestione di tutto quello che è cibo, dalla ristorazione più semplice alla ristorazione più importante, perché degli ingartisti, il ristorante del festival e quant'altro. Questo succede sia d'inverno che d'estate. Della Badia che cosa diremo? Sicuramente è una location particolare, la conosco ovviamente da Orvietano, è un posto molto bello, non ci vengo spessissimo, però ho avuto l'occasione di venire, sicuramente è piacevole. E da mangiare com'è? Da mangiare è squisito, veramente ottimo. Allora, tanti complimenti allo chef. Ovviamente, complimenti allo chef. Paolini Enrico è il direttore del teatro Mancinelli di Orvieto, un teatro importante, un teatro che ha una storia antichissima alle spalle, che fa onore a una città come questa. È arrivato come giurato all'interno di 100serate.com che fa tappa a Labbadia, al ristorante Labbadia. Un luogo spettacolare. Bellissimo, stupendo, straordinario, storico. È una storia millenaria che si percepisce da queste mura e già questo, diciamo, è un'emozione. Poi, il ristorante è gestito molto bene, c'è anche un albergo. Credo che chi è ospite di uno spazio come questo non può che essere felice. Dei piatti meravigliosi, quelli che Labbadia ha presentato questa sera, davvero unici. Che dire sul cibo che ci è stato presentato? Allora, diciamo che, utilizziamo una metafora, questi primi due piatti hanno avuto, diciamo così, uno sviluppo quasi sonatistico. Allora, diciamo, abbiamo presentato un tema, un'introduzione, con questo meraviglioso antipasto di coratella che è pensato proprio per presentare il tema, cioè la brecciata. Questa introduzione è servita a preparare, diciamo, questa esplosione di diversità della brecciata. Quindi una coratella meravigliosa, soffice, perfettamente, diciamo, equilibrata nelle diverse espressioni del gusto, che mai soverchia quell'altro sapore più, diciamo così, intenso e più diverso che è proprio della brecciata. Quindi credo che fino adesso non possiamo che essere soddisfatti di questa esperienza e quindi ci immergeremo in questa straordinaria, diciamo, serata con grande piacere. Grazie. 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 Grazie.